Maltempo in arrivo nel fine settimana, allerta gialla e arancione in Calabria. La protezione civile ha diramato un allerta meteo per la Calabria a partire da mezzanotte. Allerta gialla nella maggior parte della regione ad esclusione della fascia 4 e 8 in cui sarà arancione. Una vasta struttura depressionaria posizionata fra la penisola iberica e il Marocco infatti tende a spostarsi gradualmente sul Mediterraneo occidentale. La conseguente attivazione di un flusso di correnti meridionali porterà da giorno 27 a domenica a una perturbazione che interesserà tutto il centro-sud, con fenomeni più rilevanti accompagnati da forti venti meridionali su Sardegna, Sicilia e Calabria. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare, spiega, delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate in una sintesi nazionale nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento www.protezionecivile.gov.it. L'avviso prevede, dalla mattinata di domani, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, sulla Sicilia, in estensione alla Calabria, specie su settori meridionali e ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettriche e forti raffiche di vento, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa per rischio idrogeologico su gran parte della Sardegna e allerta arancione sui restanti bacini. Valutata inoltre allerta arancione su tutto il territorio della Sicilia e sui versanti meridionali della Calabria, allerta gialla sull'intero territorio della Basilicata e sui restanti settori calabresi. Per Teleionio, Anna Maria Colabraro. Il prefetto Guido Longo è il nuovo commissario alla Sanità, atto d'amore, verso la Calabria. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla nomina del prefetto Guido Longo come nuovo commissario alla Sanità in Calabria. La riunione del CDM è stata lampo, durata solo il tempo della nomina. Ha accettato di fare il commissario per la Sanità come atto d'amore verso la Calabria, che è la regione in cui mi sono formato professionalmente come funzionario di polizia. Il mio è anche un dovere istituzionale verso il Governo, che mi ha scelto e che ringrazio. Lo ha detto all'ANSA Guido Longo, nominato ieri sera dal Consiglio dei Ministri commissario, per il piano di rientro del deficit della Sanità calabrese. Il nuovo commissario per la Sanità calabrese è il prefetto Guido Longo, un uomo delle istituzioni che ha già operato in Calabria, sempre a difesa della legalità. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia così la nomina su Twitter. Consiglio regionale, Arruzzolo, nuovo presidente per un pugno di mesi. Il capogruppo di Forza Italia, Giovanni Arruzzolo, è il nuovo Presidente del Consiglio regionale della Calabria. Arruzzolo è stato eletto alla terza votazione, nella quale era sufficiente la maggioranza dei voti dei presenti nell'Assemblea. Subentra Domenico Tallini, dimessosi dalla carica e sospeso dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta Farmabusiness della DDA di Catanzaro. Arruzzolo, fortemente sostenuto dal parlamentare di Forza Italia, Ciccio Cannizzaro, è stato indicato dalla maggioranza di centrodestra, vincendo la sfida interna a Forza Italia con Domenico Giannetta. Calabria da domani, zona arancione. Ecco cos'è possibile fare e quali sono le restrizioni per bar e shopping. Da domani la Calabria passa da zona rossa a zona arancione, su indicazione del Ministero alla Sanità Roberto Speranza. Ciò comporta una serie di variazioni sul piano delle restrizioni. Sarà possibile spostarsi senza autocertificazione entro i confini del proprio comune. Il coprifuoco rimane in vigore dalle 22 alle 5. Resta in vigore il divieto di spostarsi al di fuori del comune e della regione, salvo i motivi di lavoro, salute, necessità e urgenza. Rimane consentita la possibilità di andare a trovare un parente o un amico non autosufficiente, senza limiti di orario. Rimane consentito raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario, o muoversi per condurli a casa propria anche tra comuni di aree differenti. Per quanto riguarda bar e ristoranti, l'asporto è consentito ma rimangono chiusi al pubblico, ma mense e catering no. I negozi di tutti gli altri tipi, compresi i centri commerciali, possono aprire, ma questi ultimi rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Per quanto riguarda le scuole, il cambiamento principale è il ritorno in aula degli studenti di seconda e terza media. La didattica rimane in presenza per le elementari e esili, la DAD vale per le scuole superiori, così come per le università, a parte le attività per le matricole e i laboratori. Per quanto riguarda i servizi alla persona, con il passaggio in zona arancione possono riaprire anche i centri estetici. Rimane anche confermata la riduzione della capienza fino al 50% per il trasporto pubblico, con l'eccezione di quello scolastico. Le attività del tempo libero, teatri, cinema, palestre e piscine, rimangono vietate, ma c'è il sì ai centri sportivi e alle competizioni. Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi pubblici e privati del proprio comune, o in assenza di tali strutture, in comuni limitrofi, per svolgere all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio. Per Tele Ionio, Anna Maria Colabraro. Covid, pediatri provincia Cosenza e i sindaci del territorio, non riaprite le scuole. I pediatri di famiglie della provincia di Cosenza hanno scritto una lettera aperta ai sindaci del territorio, perché non riaprono le scuole. I medici si dicono consapevoli della grande importanza che riveste la scuola per lo sviluppo psicologico, intellettivo ed affettivo dei bambini e ragazzi, ma affermano che l'attuale sistema di sorveglianza epidemiologica dei contagi, attraverso i tamponi molecolari, spesso eseguiti con notevole ritardo, ancora oggi non consente la sicurezza di arginare con un eventuale focolaio in ambito scolastico. I pediatri sottolineano come nell'ultimo mese siano quadruplicati i ricoveri in terapia intensiva e gli isolamenti domiciliari e che l'apertura delle scuole a ridosso delle vacanze di Natale potrebbe favorire la trasmissione di SARS-CoV-2 e vecolorebbe il virus in ambito familiare. Auspicano quindi una riapertura delle scuole dopo l'epifania. Il Tar della Calabria nei giorni scorsi ha bocciato il provvedimento con cui la Regione aveva sospeso la didattica in presenza. Covid, impennata di contagi a Valle Fiorita, adesso i positivi sono 35. Epidemia da coronavirus in continua evoluzione a Valle Fiorita, nel ridente centro delle preserre catanzaresi, su 47 tamponi infettuati da personale infermieristico dell'ASP di Catanzaro, 12 sono risultati positivi. Salgono dunque a 35, fa sapere il sindaco Salvatore Megna, i casi di contagio all'interno della nostra comunità. Megna rinnova l'invito alla popolazione ad evitare spostamenti non necessari e a rispettare le regole. Ciò significa, aggiunge, che chi convive in casa con dei soggetti positivi, anche se il risultato negativo al tampone, non deve uscire per rispetto degli altri. Il primo cittadino inoltre sollecita a contattare i volontari per ricevere assistenza e conclude ricordando come Valle Fiorita stia vivendo un periodo particolarmente difficile nel quale serve l'aiuto di tutti noi. Coronavirus a San Vito sullo Ionio, gli aggiornamenti nel videomessaggio del sindaco Antonio Tino. Buonasera, facciamo un piccolo riepilogo sulla situazione Covid a San Vito. Ad oggi abbiamo 20 positività, di cui 4 bambini delle nostre scuole. Dei tamponi effettuati giorno 14, quelli degli alunni e delle insegnanti della prima elementare sono risultati tutti negativi, fortunatamente, mentre sui rimanenti tamponi abbiamo riscontrato 13 positività. 11 sono tamponi di soggetti già risultati positivi precedentemente e 2 invece sono nuovi casi. In questi giorni tutti i positivi e i contatti con positivi stanno rifacendo il tampone di controllo presso Asper e speriamo che risultino poi negativi. Fortunatamente ci sono anche state delle guarigioni, e siamo a quota 9, di cui due bambini. A proposito dei bambini, in accordo con la dirigente scolastica e con i sindaci del comprensorio, viste le difficoltà dell'Asper di tracciare i contatti, effettuare i tamponi e comunicare i risultati, abbiamo prorogato la chiusura delle scuole fino al 5 dicembre compreso. Ci auguriamo che la situazione migliori al più presto. Vi terrò informati e vi auguro una buona serata. A Chiaravalle, scontro politico su Casa della Salute o reparto Covid. Più che un centro Covid, il comprensorio delle preserre ha bisogno di riprendere il dialogo per arrivare alla riconversione dell'ex ospedale San Viaggio in Casa della Salute, anche perché la Regione Calabria ha messo sul piatto 8 milioni e 100 mila euro. La mia posizione, guardate, è emersa. Già nel mese di marzo-aprile, quando abbiamo iniziato a vivere la vicenda Covid nel nostro territorio. Di che cosa parliamo? Parliamo di riapertura dell'ospedale? Parliamo di ospedale a Chiaravalle? E chi può dire di no? Siamo i primi a dire sì all'ospedale a Chiaravalle. Ma la confusione che si sta creando è quella che oggi invece si parla e si ipotizza. La riapertura dell'ospedale per fronteggiare l'emergenza Covid. Quindi far diventare la struttura che oggi noi abbiamo come Casa della Salute centro Covid. C'è un centro, perché anche parzialmente dovrebbe essere occupata questa struttura, per accogliere i positivi che non possono più stare negli ospedali e li devono spostare in altre strutture. La Regione Calabria ha fatto un bando perché stanno cercando strutture private. Perché? È finalizzato ad accogliere i positivi. Quindi io a marzo, ad aprile, già l'ho detto che questa eventualità, parlando con i medici di medicina di base, parlando con gli operatori sanitari che sono nella struttura, parlando con i primari della struttura per quanto riguarda la riabilitazione, dialisi, non è compatibile con l'attività sanitaria che c'è in questa struttura. Diventerebbe una bomba epidemiologica, fu detto allora. Perché non è possibile la struttura che oggi noi abbiamo portarla non ad ospedale. Non parliamo di medicina, chirurgia, ginecologia e tanti altri reparti. Stiamo parlando di fronteggiare l'emergenza Covid, quindi dei reparti per portare i positivi nella nostra struttura sanitaria, che non è possibile poterla accogliere. Quindi dobbiamo fare attenzione anche ai termini che usiamo. Anche ai termini che usiamo, perché diventerebbe veramente solo illudere i cittadini. L'ospedale è stato chiuso, e non entro nel merito di dove e come è stato chiuso. L'ospedale è stato chiuso negli anni. Oggi parliamo di riaprire parzialmente quella struttura per poter portare i positivi. E non credo che Chiaravalle oggi è nelle condizioni, dopo quello che ha vissuto, di offrire questa opportunità. Un'opportunità che è finalizzata al periodo Covid. Se noi iniziamo i vaccini a gennaio, a febbraio, a marzo, finisce l'emergenza, si raccolgono la roba e se ne vanno da Chiaravalle, rischiando di perdere la dialisi, rischiando di perdere la riabilitazione, rischiando di perdere quegli ambulatori che quantomeno oggi un po' di servizi territoriali stanno dando. E noi in Chiaravalle questo non se lo può permettere, perché abbiamo perso l'ospedale e non ritorno a dire perché è stato perso l'ospedale. E rischieremo di perdere anche quello che di buono oggi c'è sul nostro territorio per garantire il diritto della salute ai nostri concittadini. Sindaco, nonostante lo sciopero della fame che ha realizzato lei quasi un anno o due anni fa, a che punto è la situazione della Cassa della Salute? Non sono partiti nemmeno i lavori. Sì, è vero, è vero. Il tutto iniziò a settembre del 2017. Un iter che non esisteva e non portava nessun tipo di atto per poter realizzare la struttura della Cassa della Salute a Chiaravalle. Allora iniziamo questo percorso. Fu necessario quell'atto forte di uno sciopero della fame che portò nel giro di un anno e qualche mese alla definizione di tutte le pratiche. Non esisteva una progettazione definitiva. Si fece l'incarico per una progettazione definitiva. Non esisteva un progetto esecutivo. Si diede l'incarico per il progetto esecutivo. Si diede poi l'incarico per il verificatore dell'opera che doveva essere fatta. Fu fatto poi tutto quello che serviva, genio civile, tutti gli atti necessari, lunghi, lunghissimi. Si arrivò al mese di febbraio del 2019, pronti per poter avviare la gara. Lo ripeto ancora una volta. Il decreto Calabria impedì alla Calabria di poter fare le gare sia per i beni e i servizi che sia per quanto riguarda le opere di edilizia sanitaria. Blocco tutto. Oggi finalmente si riparla. C'è la ripossibilità di poter fare, avviare questo percorso. Mi permetto, se riesco a trovarlo perché ancora non sono riuscito a stampare, ieri la dottoressa Latella, sua eccellenza, prefetto, ex prefetto di Canzaro, attuale commissario dell'ASPE di Canzaro, mi ha trasmesso gli atti necessari alla pubblicazione della gara. Infatti ieri sera mi girava quello che era, lo trovo e lo leggo perché sono autorizzato anche da parte, di sua eccellenza, di poterlo leggere. Ieri sera mi inviavo quello che loro, con protocollo 129528, hanno inviato la nota ad Invitalia Spa, all'attenzione dell'avvocato Giovanni Portaluri, agli investimenti pubblici postacert di Invitalia, al commissario ad acta, ad oggi facente funzione la dottoressa Crocco, e all'architetto Luigi Matarrese, responsabile unico del procedimento. Mandano tutti gli atti che sono necessari alla pubblicazione della gara. Convenzione tra il commissario ad acta per il piano di rientro ed Invitalia, ex articolo 6, Casa della Salute di Chiaravalle Centrale. facendo seguito alle intercorse intesi, in allegato alla presente, si trasmettono la dichiarazione di impegno e tutto il resto, dove dovranno trovare capienza per l'approvazione dei nuovi elaborati per l'avvio della procedura di gara. Questo è quanto ieri sera mi è stato trasmesso ufficialmente. Quindi è un iter che ha avuto un rallentamento dovuto a situazioni che non dipendono da noi, che però oggi io mi auguro che con questa ultima trasmissione di tutti gli atti Invitalia è nelle condizioni di avviare immediatamente quella che è la gara per aggiudicare i lavori sudore della nostra fronte. Quindi è un qualcosa che non dipende da noi, dove noi abbiamo messo veramente tutte le nostre forze per poter arrivare a questo. Ci saremmo arrivati, se non ci fosse stato il decreto Calabria, già da maggio del 2019. Un ritardo di due anni quasi, dettato da questa follia, di questo decreto che ha paralizzato la sanità calabrese è che oggi, grazie all'intervento forte di Sua Eccellenza il Prefetto, Dottoressa Latella, finalmente potrebbe trovare questo sbocco con l'invio ufficiale, ho letto il numero di protocollo, di questa nota, di tutti gli atti per l'avvio della procedura per la gara, per la costruzione della nuova casa della salute. Questa è la realtà della situazione, la concretezza dei fatti. Sindaco, allora ci sarà questo Consiglio Comunale che chiedono la minoranza? È normale che ci deve essere. Il confronto è la cosa più bella. Io l'ho sempre auspicato che insieme possiamo costruire il futuro della nostra Chiara Valle. Perché no? Benvenga. Benvenga un confronto. Ma io continuo a dire, io ritengo che la cosa necessaria è che dobbiamo essere chiari verso i nostri concittadini. Chiari significa dire quello che vogliamo. dire che vogliamo la riapertura dell'ospedale per fronteggiare l'emergenza Covid che è solo finalizzato all'emergenza Covid. È finalizzato ad accogliere i positivi nella nostra città. E questo significa paralizzare, vi ripeto, non voglio più perdere tempo su questo argomento, paralizzare quel poco di sanità territoriale che oggi garantisce il diritto della salute ai nostri concittadini. Parlare di ospedale, se c'è la possibilità, tutti insieme ci lottiamo per poter avere un nuovo ospedale a Chiara Valle. Ma gli indirizzi sono altri. Le strade che abbiamo intrapreso sono altre. La strada che si sta intraprendendo, che si sta chiedendo anche in questa interrogazione è di utilizzare la struttura anche parzialmente per l'emergenza Covid. Quindi fare un centro Covid a Chiara Valle. Su questo, ma non perché non lo voglio io, perché chi è competente, chi ha le indicazioni utili da doverci dare per dire se questo è possibile o meno, già si sono espressi nel mese di aprile che questa è una strada che metterebbe a rischio i cittadini di Chiara Valle. E noi questo non ce lo possiamo permettere. Precari ex legge 12, Talarico, chiesto approfondimento tecnico, massimo impegno per i lavoratori. Voglio fare chiarezza in merito a quella che considero una fake news. C'è stata una serie di interventi sui social in merito ad una mia responsabilità diretta che riguarda i precari dell'ex legge 12. Ci tengo a chiarirlo perché abbiamo chiesto esclusivamente un approfondimento tecnico agli uffici. L'intera giunta è stata d'accordo e quanto dichiara l'assessore al bilancio dell'aggiunta regionale Francesco Talarico in merito al percorso di stabilizzazione dei 208 precari già in servizio negli enti FIELD, Calabria Etica e Fondazione Calabresi del Mondo. Ci siamo avvalsi del segretariato generale e degli uffici competenti, spiega ancora Talarico, per un approfondimento di merito. L'ho già comunicato ai sindacati, ci siamo confrontati insieme per individuare un percorso condiviso. Tutti devono stare sereni e tranquilli. Parto dal presupposto che da sempre nel mio impegno politico c'è stato un aiuto e un sostegno al lavoro, ai precari, a coloro che hanno bisogno e con problematiche occupazionali. Non si è trattato né di uno scontro tra assessori né di visioni diverse. Abbiamo condiviso all'unanimità di prenderci qualche giorno di tempo per approfondire. Ricordo che la legge 12, continua Talarico, fu approvata proprio sotto la mia presidenza del Consiglio regionale. Abbiamo rimesso dei precari che erano fuori dal mondo del lavoro. è dato la possibilità di presentare delle domande per essere inclusi in elenchi speciali. Chi ci ha preceduto per cinque anni non ha fatto nulla. Appena ci siamo avviati, abbiamo lavorato per proporre dei bandi per approfondire delle valutazioni tecniche sui profili di tutti coloro che erano in queste condizioni. Abbiamo raccolto 208 persone che erano in uno stato di precarietà, quindi un percorso avviato sin dall'inizio di questa legislatura. Naturalmente dal 16 ottobre, conclude l'assessore di bilancio, si è entrati in una seconda fase, ovvero quella dell'ordinaria amministrazione. Ci saranno le elezioni tra pochi mesi, perciò si tratta di un provvedimento di una certa rilevanza e importanza. Purtroppo c'è tanto precariato in Calabria. Noi ci stiamo impegnando, mettendo a disposizione gli ingenti risorse di bilancio e anche comunitarie, per riuscire a stare vicini ai lavoratori e a coloro che soffrono, soprattutto in questo momento delicato e difficile. Aggravato ancora di più dall'emergenza coronavirus, che ha gettato tante famiglie in una crisi estremamente profonda. Da parte nostra c'è il massimo impegno e speriamo di trovare la soluzione nei prossimi giorni. Anche il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell'operato del Sindaco di Santa Caterina dello Ionio per quanto riguarda il pontile. Con procedimento depositato in data odierna, il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso in appello prodotto da Pilato Antonio e Geracitano Carmela contro la sentenza del TAR Calabria Catanzaro relativa alla vicenda del pontile posto sul torrente Sant'Antonio e Santa Caterina Marina. Come Sindaco e a nome di tutta l'amministrazione comunale intendo rivolgere un ringraziamento particolare all'Avvocato Sandro Scoppa che ha svolto il suo mandato per conto dell'ente con professionalità e competenza ottenendo un risultato che conferma la legittimità dell'operato della nostra squadra di governo. Con quest'ultimo atto dobbiamo dare seguito alle prescrizioni della sentenza e procedere quindi alla demolizione del pontile. Ma voglio sin da subito rassicurare tutti e in modo particolare i proprietari di quelle aree che siamo al lavoro per reperire risorse e ricostruire un attraversamento più sicuro rispondente ai requisiti di sicurezza richiesti dalla legge. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Incendio in abitazione a Catanzaro anziano trovato morto dai vigili del fuoco Un uomo di 85 anni è morto in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione a Catanzaro. A trovare il cadavere sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo calabrese intervenuti. La chiamata al 115 segnalava un incendio in appartamento in via Gariani Rione Piano Casa. I vigili del fuoco anche con l'ausilio dell'autoscala sono entrati nell'appartamento ed hanno trovato il corpo dell'uomo. In rogo è interessato il salone sul posto sono intervenuti anche carabinieri e polizia per gli adempimenti di competenza e per accertare insieme ai vigili del fuoco le cause dell'incendio. Autoaddestramento per fini terroristici un arresto nel Cosentino Un cittadino italiano residente in provincia di Cosenza è stato arrestato dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza del GIP su richiesta della DDA di Catanzaro per autoaddestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. Nel materiale informatico sequestrato gli investigatori hanno trovato manuali di istruzioni sulla realizzazione di ordigni tutorial sulla conduzione di operazioni terroristiche documenti esplicativi sull'autoaddestramento per il compimento di attentati nonché video ed immagini cruente di esecuzioni dell'ISIS riviste ufficiali delle agenzie mediatiche dell'ISIS Al-Qaeda ed altri gruppi terroristici oltre documenti in lingua araba autoprodotti dall'indagato. Il provvedimento è scaturito da un'indagine denominata Miraggio condotta dalla DIGOS distrettuale di Catanzaro e di Cosenza dal servizio polizia postale e delle comunicazioni e dal servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della DCPP UGCOS diretta e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Catanzaro con il procuratore Nicola Gratteri il procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla ed il pubblico ministero Graziella Viscomi Si cercano le cause che hanno fatto scattare la furia omicidia di Sergio Giana il 36enne di Badolato che ha colpito Loredana Scalone con 16 coltellate C'è una vittima e un reo confesso nella morte di Loredana Scalone la donna brutalmente accoltellata a Saletti dall'uomo con cui aveva una relazione sentimentale manca però ancora un movente e la definizione dell'arma del delitto la versione fornita da Sergio Giana 36enne di Badolato presenta ancora troppi punti oscuri che gli inquirenti confidano di chiarire in modo definitivo attraverso l'esame autoptico l'incarico di eseguirlo sarà affidato lunedì e si svolgerà la presenza di un consulente di parte che la famiglia della vittima attraverso il proprio legale conferma di voler nominare un test chiave è quello dell'esame post mortem che potrebbe confermare o sconfessare la versione dei fatti fornita all'interno di un lungo interrogatorio da parte dell'uomo che al momento è l'unico indagato per l'omicidio e che ha ammesso di aver ucciso Loredana ma di non averlo premeditato reagendo a una supposta aggressione tutta da verificare la tesi di una legittima difesa sembra infatti non appoggiarsi a dei segni fisici sull'uomo che ha sostenuto di aver impugnato un coltello che sempre nella sua versione sarebbe stata la vittima ad averlo estratto per prima se l'arma sia o meno quella rinvenuta sul luogo del delitto è un ulteriore elemento da accertare all'interno dei rilievi resi più difficili Gianna ha in prima persona realizzato tornando nel luogo in cui si è consumato il delitto diverse ore dopo l'uccisione di quella che era stata per un periodo la sua convivente una storia extra coniugale ma mai nascosta quella dei due amanti che per più di un mese avevano tentato anche l'esperienza di una convivenza terminata con il ritorno di Gianna dalla propria moglie a Badolato si cerca ora la verità in un caso di femminicidio che ha sconvolto l'intera comunità stalettese la famiglia della vittima sissita dall'avvocato Antonio Ricupero ha espresso la volontà di costituirsi parte civile per chiedere la condanna della persona che è la privata dell'effetto più caro preferendo attendere le risultanze dell'esame post mortem prima di fornire dichiarazioni ufficiali tra i punti da chiarire la compatibilità delle ferite sul corpo della donna con il coltello da cucina rinvenuto nella scogliera e la modalità con cui sono stati inferti i colpi sul volto al torace e sulla schiena della donna ci sarebbe infatti anche il dubbio che il suo sassino possa essersi accanito sul corpo dopo l'avvenuto decesso parallela a quella dell'omicidio scorre poi l'indagine per l'occultamento del cadavere che si baserebbe su prove ancora più pesanti lo stesso Gianna ha fornito ai carabinieri di Casperina l'accurata descrizione del luogo esatto in cui si trovava il cadavere nascosto in un'insenatura della scogliera di Pietragrande coperto con la stoffa della mochetta di una scenografia della discoteca in cui tutto si è consumato e parzialmente ricoperto con sabbia reperita da un terra pieno che si trovava sulla pista da ballo si ipotizza che vi fosse dietro quei lucidi gesti il duplice intento di favorire l'assorbimento del sangue e di mimetizzare il corpo della vittima difficile da scorgere ad occhio nudo anche per i carabinieri che per primi lo hanno rinvenuto nella notte tra martedì e mercoledì dopo più di 24 ore dall'omicidio Caia trovata morta in casa a Reggio Calabria perizia psichiatrica sull'autore la corte d'assise di Reggio Calabria ha disposto una perizia psichiatrica per verificare se Billy J. Sicat di origine filippine fosse in grado di intendere di volere quando nel luglio del 2019 ha ucciso con una mannaia Mariella Rota titolare di una tabaccheria in via Melacrino nel piano centro cittadino nell'udienza fissata per il 7 dicembre ci sarà il conferimento dell'incarico al perito oggi l'imputato con l'aiuto di un interprete è stato interrogato difeso dagli avvocati Demetrio e Maria Teresa Pratico Sicat ha risposto alle domande del PM Giulia Maria Scavello e del presidente della corte d'assise Ornella Pastore Sicat che aveva già confessato l'omicidio nel momento dell'arresto ha ribadito di essere stato lui l'autore mi sono procurato l'arma ha detto l'imputato e volevo ucciderla perché ero arrabbiato quando ho visto tutto quel sangue ho avuto paura e ho pulito tutto stando alla ricostruzione della squadra mobile che ha condotto le indagini Sicat era un ludopatico un cliente abituale della tabaccheria della vittima giocava regolarmente a lotto e perdeva secondo gli investigatori avrebbe ucciso Maria La Rota per giustificare con se stesso le continue perdite di denaro frutto del lavoro della moglie in sostanza imputava alla donna la responsabilità dei soldi persi al gioco durante l'udienza il PM Scavello ha affermato che dalla dinamica dell'omicidio ricostruita in modo così chiaro c'è la prova analitica della premeditazione quello della signora Rota è stato un omicidio premeditato quindi la pensa diversamente la difesa che pur amettendo che si tratta di processo chiuso bisogna capire fino a che punto Billy J. Sickert è consapevole di ciò che ha fatto Daniela Maiolo per Teleionio Fabrizio Corona testimone in processo a Locri sarà sentito il 10 febbraio i giudici del Tribunale di Locri hanno disposto per il 10 febbraio prossimo l'esame di Fabrizio Corona in qualità di test assistito l'ex re dei paparazzi deve deporre in un processo a carico tra l'altro di due suoi amici ed ex collaboratori l'avvocato Tommaso Delfino e Marco Bonato imputati per riciclaggio in relazione ad una parte di denaro che circa 10 anni fa è stata utilizzata per acquistare un appartamento a Milano in via Cristoforis casa in cui viveva Corona del valore di circa 2,5 milioni di euro è ora da circa un anno sottoposta a sequestro dell'autorità giudiziaria milanese il roggito per l'acquisto dell'immobile a Milano secondo quanto emerso dall'inchiesta è stato effettuato a Locri e i soldi suddivisi in 22 assegni circolari versati da Delfino su delega di Fabrizio Corona ai due ex proprietari della casa milanese Pasquale Ceravolo e Giuseppina Gallo presunti venditori fittizi i quali a loro volta avrebbero girato le somme secondo l'accusa al pregiudicato calabrese Vincenzo Gallo che appare così il beneficiario finale del pagamento al di là della decisione assunta oggi dai giudici del Tribunale di Locri di disporre l'esame di Corona a febbraio del 2021 lo stesso ex re dei paparazzi aveva in mattinata tramite il suo legale fatto sapere di volersi avvalere della facoltà di non rispondere nascondevano 17 kg di cocaina in auto e 5 milioni interrati in giardino due arresti nella Locride due arresti 17 kg di cocaina nascosti all'interno di un'auto e 5 milioni di euro in contanti interrati in giardino è il risultato di un controllo alla circolazione stradale eseguito dai carabinieri ad Ardore Marina sulla statale 106 nella notte tra il 26 e il 27 novembre due uomini di 24 e 32 anni sono stati fermati a un posto di blocco perché alla guida di due autovetture mentre procedevano stranamente accodati il nervosismo dei due ha spinto i militari dell'arma a perquisire i mezzi e all'interno del veicolo del 24enne nascosto in un doppio fondo del vano portoggetti hanno trovato 17 kg di cocaina suddivisa in 15 confezioni sigillate la perquisizione è stata estesa alle loro abitazioni e a casa del 32enne i carabinieri della compagnia di Locri supportati dai carabinieri dello squadrone riportato cacciatori Calabria hanno trovato 6 bidoni in plastica interrati nel giardino e occultati sotto materiale di risulta all'interno c'erano 5 milioni di euro in contanti banconote di vario taglio poste sotto vuoto in buste di plastica termosaldate i due sono stati quindi arrestati accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria è stata avvertita la procura di Locri che ha avviato le indagini vista la quantità di droga e di denaro trovati gli investigatori non escludono che ci sia il coinvolgimento delle famiglie di indrangheta nel territorio coinvolgimento che se confermato comporterebbe il trasferimento dell'indagine alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria Drangheta operazione rimpiazzo la DDA di Catanzaro chiede 200 anni di carcere la DDA di Catanzaro con il PM Andrea Mancuso ha chiesto 21 condanne per complessivi 200 anni di reclusione nell'ambito del processo corrito abbreviato scaturito dall'operazione antimafia rimpiazzo scattata lo scorso anno contro il can dei Piscopi Sani che ha la sua roccaforte nella frazione Piscopio del comune di Vibo Valencia fra le richieste di pena più alte quelle nei confronti di Rosario Fiorillo 20 anni di reclusione Nazareno Fiorillo 13 anni 8 mesi e Michele Fiorillo 12 anni oltre a Sascia Fortuna 18 anni e Cosmo Michele Mancuso ad 8 anni e 6 mesi quest'ultimo boss dell'omonimo clan di Limbadi contrapposto al clan dei Piscopi Sani associazione mafiosa estorsione danneggiamenti traffico di droga detenzione illegale di armi intestazione fittizia di beni i reati a vario titolo contestati l'operazione rimpiazzo è stata coordinata dalla DDA di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri mentre le indagini sono state condotte dalla squadra mobile di Vibo Valencia per Teleionio Lorena Pallotta droga a Catanzaro un arresto dei carabinieri il 27 novembre i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Catanzaro traevano in arresto SD classe 1994 celib disoccupato pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti l'arresto è stato operato a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dalla prima sezione penale del tribunale di Catanzaro a seguito di aggravamento richiesto poiché già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nelle scorse settimane per due volte il soggetto era stato trovato con diverso stupefacente in abitazione anche questa volta i militari della sezione operativa hanno proceduto a perquisire l'abitazione rinvenendo 1,6 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana il tutto veniva sottoposto a sequestro SD già conosciuto alle forze di polizia per vari reati commessi nell'ambito delle sostanze stupefacenti e già arrestato più volte per detenzione ai fini di spaccio dopo le formalità di rito è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro Siano a disposizione dell'autorità giudiziaria Drangheta maxitraffico di cocaina da Sud America a Genova 4 condanne sono stati condannati a oltre 36 anni complessivi di carcere le 4 persone arrestate un anno fa nell'ambito dell'inchiesta su un maxitraffico di cocaina dal Sud America verso Genova ai 4 è stata contestata l'aggravante mafiosa in particolare aver agevolato la cosca andranghetista Alvaro di Sinopoli sono stati condannati Antonio Alvaro 10 anni appartenente alla cosca Alvaro Sinopoli di Reggio Calabria Domenico Romeo numero 2 di Alvaro 9 anni e 4 mesi Rodolfo Militano a 9 anni e Filippo Ierino a 8 anni la droga 368 kg di cocaina sequestrati a luglio 2019 nel porto di Genova nell'ambito dell'operazione Buonvento volta al contrasto delle narcomafie avrebbe fruttato all'organizzazione circa 100 milioni a scoprire il traffico erano stati alcuni agenti sotto copertura che avevano agganciato Alvaro sin dal suo arrivo a Bogotà per contrattare l'acquisto di cocaina nel corso dell'operazione erano stati sequestrati anche 953 mila euro in contanti che sarebbero serviti per finanziare l'acquisto della droga tenta di uccidere il fratello lasciandogli addosso una bombola del gas arrestato un 55enne nel Cosentino nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Cosenza Centro e Celico hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere emessa dall'ufficio GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un 55enne di Zumpano per il reato di tentato omicidio aggravato i fatti dettagliatamente ricostruiti nell'ordinanza cautelare risalgono allo scorso 15 novembre quando i militari della stazione di Celico sono intervenuti unitariamente ad una squadra dei vigili del fuoco in un condominio di Zumpano dove era stata segnalata la presenza di una bombola del gas pericolosa per l'incolumità pubblica i militari giunti nel luogo segnalato riscontravano la presenza di una bombola del gas di 15 kg che aveva danneggiato il montante di un'autovettura ivi parcheggiata il proprietario del veicolo in evidente stato di shock riferiva ai carabinieri intervenuti che poco prima mentre era intento ad aprire la saricinesca del garage aveva visto il fratello nascosto sul balcone di casa sito al secondo piano della palazzina allentare la bombola del gas dargli fuoco e lanciarla contro di lui nel tentativo di ucciderlo l'uomo dopo avere compiuto l'insano gesto si è poi velocemente allontanato da casa in compagnia della moglie e della figlia in concomitanza dell'accaduto veniva accertato che i rapporti tra i due fratelli erano da tempo deteriorati e degenerati in vicende giudiziarie non ancora definite inoltre unitamente al personale dei vigili del fuoco che intanto avevano messo in sicurezza l'area venivano effettuati degli accertamenti volti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e dalla valutazione della potenzialità lesiva dell'arma adoperata infatti la bombola accesa scagliata da un'altezza così rilevante avrebbe potuto cagionare la morte di un uomo con il suo peso o addirittura una deflagrazione mortale la ricostruzione dell'uomo veniva inoltre suffragata dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza che evidenziano come l'evento lesivo non si fosse verificato per pura casualità la vittima che stava lavando l'autovettura si era spostata dalla traiettoria della bombola per prendere degli accessori nel garage l'arrestato espletate le formalità di rito è stato ristretto presso la casa circondariale interrogato dall'autorità giudiziaria per teleionio Anna Maria Colabrano furto di pigne e tre arresti dei carabinieri forestali sono stati sorpresi a rubare circa sette quintali di pigne in località Portella nel comune di San Sostene Giacinto Bruno De Marco 31 anni Mohamed Boukerov 37 anni e Abdel Baki Geboud 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri forestali della stazione di Davoli per il reato di furto danneggiamento e violazione della legge sulla tutela dei beni paesaggistici i carabinieri forestali durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia ambientale hanno notato in località Portella sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico un furgone parcheggiato lungo la strada vicino al quale erano adagiati dei sacchi contenenti strobili di pino intervenuti i forestali hanno sequestrato 21 sacchi pieni di pigne e hanno proceduto all'arresto in flagranza dei tre nel corso dell'udienza di convalida De Marco difeso come gli altri due dall'avvocato Vincenzo Cicino ha dichiarato di essere stato autorizzato alla raccolta di strobili nella pineta comunale della comune di Sant'Andrea in consapevolmente oltrepassato i limiti territoriali oggetto dell'autorizzazione il giudice Antonella De Simone ha convalidato l'arresto dei tre ordinandone però l'immediato rilasso e disponendo il giudizio direttissimo ruba in un ambulatorio extracomunitario in fuga l'uomo si è introdotto nella struttura e ha preso le borse dei dipendenti tanta paura e per fortuna poco altro nella cittadina di Soverato in cui nella serata di mercoledì si è registrato un furto all'interno di una struttura sanitaria privata ovvero un poliambulatorio nell'ora della chiusura un uomo di nazionalità extracomunitaria si è introdotto nell'accettazione dell'edificio situato in via Galliano al centro della cittadina ionica prelevando le borse delle dipendenti che si sono trovate faccia a faccia con il ladro che spaventato dalle urla ha lasciato parte della refurtiva per fuggire con una sola borsa in mano inutile la rincorsa dei commercianti degli esercizi nelle vicinanze che hanno capito subito la situazione e hanno cercato di raggiungere l'uomo che si è però dileguato nelle buie traverse del corso principale facendo perdere le proprie tracce probabilmente utilizzando un sottopasso pedonale l'episodio è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Soverato che hanno avviato le indagini acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza di tutti gli esercizi commerciali di Corso Umberto e delle vie limitrofe gli episodi di microcriminalità sono rari nella cittadina ionica in cui si è registrata una motivata apprensione per la desolazione creata nelle strade dopo l'ultimo parziale lockdown la chiusura dei negozi del centro cittadino ha infatti reso meno illuminate le strade dando un senso generale di insicurezza a chi si trova a lavorare negli orari di chiusura in cui poche sono le persone che popolano le strade cittadine la paura è che male intenzionati possono approfittare della scarsa circolazione di persone per effettuare scippie e furti anche di non grave entità per questo motivo si sono intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine a cui è fondamentale fornire la propria collaborazione l'invito è a segnalare qualsiasi elemento sospetto che possa portare a prevenire episodi spiacevoli che potrebbero avere conseguenze più gravi di quelle registrate nell'ultimo caso per Teleionio Anna Maria Colabrano rifiuti fra i boschi delle serre Barillari pubblica la foto con un documento intestato sanzione sociale per i trasgressori ancora rifiuti di ogni genere nei sentieri dei boschi delle serre luoghi unici che meriterebbero di essere valorizzati anche se alcuni evidentemente non riescono a comprendere né il loro significato né quello del senso di rispetto abbandonando scarti ed oggetti non più utilizzabili sul suolo così nello spettacolo verde raggiunto ogni anno da un numero indefinito di visitatori si materializzano visioni spiacevoli che fanno sorgere dubbi e domande la pessima pratica è stata presa di mille dall'amministrazione comunale che intende sanzionare anche al fine di rieducare chi è sprovvisto di senso civico sanzioni sociali consistenti nel giudizio della comunità alle quali rischiano di aggiungersi quelle economiche perché il sindaco Alfredo Barillari ha pubblicato la foto dei rifiuti gettati fra i quali compare un documento con tanto di nome e cognome che è stato scurato nella pubblicazione ma sembra individuare il responsabile a cui combinare la punizione agli incivili che violentano i nostri meravigliosi boschi ha commentato il primo cittadino faccio notare che le telecamere non sono l'unica risorsa per infliggere le giuste sanzioni a volte infatti basta andare a fondo e sfruttare l'acume di chi persevera nell'ignoranza un autogol dunque che sarà pagato nella speranza che serva da lezione discariche selvagge fioccano i verbali a borgia rintracciati i responsabili dei gesti incivili non sembra avere alcuna influenza sul senso civico dei soliti furbetti del sacchetto l'emergenza sanitaria che limita spostamenti e socialità ma che evidentemente non impedisce a chi non ha a cuore il rispetto dell'ambiente di scambiare i bordi delle strade e gli spazi pubblici per una grande discarica a cielo aperto dove abbandonare ogni sorta di rifiuto da qui l'azione di contrasto di un fenomeno tanto odioso quanto diffuso messa in campo dall'amministrazione comunale di Borgia guidata dalla sindaca Elisabeth Sacco grazie all'operatività degli agenti della polizia locali intervenuti per perseguire l'inciviltà e ripristinare la pulizia dei luoghi nel rispetto della tutela della salute e delle opportune condizioni igienico-sanitarie in seguito ad un'accurata attività di controllo sul territorio di competenza e capillari interventi gli agenti di polizia locale guidati dal comandante Salvatore Scarfone continuano ad accertare l'identità di cittadini residenti a Borgia ma provenienti purtroppo anche da fuori comune che abbandonano rifiuti in particolare lungo la strada provinciale 46 e nella zona dell'ex villaggio comunale proprio dal controllo dei rifiuti abbandonati gli agenti sono riusciti a risalire ai legittimi proprietari combinando loro verbali che arrivano a costare agli incivili fino a 600 euro un'attività di contrasto all'inciviltà e allo sfregio dell'ambiente quella realizzata dai vigili urbani cui va il plauso dell'amministrazione e della sindaca per l'impegno a reprimere comportamenti poco virtuosi nei giorni scorsi infine il comune di Borgia ha interloquito con la provincia di Catanzaro ente competente dell'arteria segnalata da un'incessante attività di abbandono di rifiuti e l'ente ha assicurato l'avvio della bonifica della strada provinciale 46 in tempi brevi per Teleionio Anna Maria Colabraro incidente stradale sulla strada provinciale 17 nel Vibonese due auto coinvolte feriti i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti sulla strada provinciale 17 all'altezza del Bivo per Zungri per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture per causa in corso di accertamento una Peugeot 3008 e una Toyota RAV4 si sono scontrate ed a seguito dell'impatto il conducente della Peugeot è rimasto incastrato all'interno della vettura con quest'ultima in bilico su un fosso i vigili del fuoco prontamente intervenuti con due automezzi ed una gru dopo aver stabilizzato la Peugeot hanno estratto la persona incastrata affidandola successivamente ai sanitari del 118 per il trasporto in elisoccorso all'ospedale di Catanzaro il conducente dell'altro mezzo è stato trasportato all'ospedale di Vibo Valentia incidente stradale all'imbadi intervengono i vigili del fuoco con una gru i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto all'imbadi lungo la strada provinciale numero 30 tra Mandaradoni e Caroni una Fiat Panda condotta da una persona del luogo nell'affrontare una curva per causa in corso di accertamento è andata a finire fuoristrada terminando la corsa sotto un attraversamento stradale i vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di ricadi dopo aver prestato soccorso al conducente e messo in sicurezza la vettura hanno fatto intervenire una gru dalla sede del comando provinciale provvedendo al recupero della vettura incidentata di intoria in incontra a l' fis istora in sicurezza in incontra a